Buongiorno cari follower capitalisti, benvenuti a Podcast in Pillole, che pare una rubrica di medicina ed invece parliamo di satira geopolitica e di altre cose pazzesche. Ma lo sapete che giorno è oggi? Non fate finta di niente. È il 4 luglio, l'Independence Day, il giorno dell'indipendenza. Il giorno in cui gli americani hanno fatto la Brexit. Solo che invece che dall'Europa sono usciti dal Regno Unito, quando erano ancora in peso forma, che ora al massimo possono andare dal dottore Noosdaran, che tanto poi con il Regno Unito ci hanno fatto pace. Meno male che ci rimangono i francesi che a loro piace ancora un sacco bruciare cose. Quindi ho pensato di partire da questa nefasta e funesta ricorrenza per fare una riflessione. Perché parte tutto con quel gruppo di coloni ribelli travestiti da indiani che buttarono il tè di Your Majesty nella baia di Boston? Volevano solo frenzonare i lordi inglesi che all'epoca erano tipo Satana, 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 che collezionavano coloni e genocidi peggio dei Pokémon. Non avevano idea che sta cosa della democrazia poi sarebbe un pochino sfuggita di mano, ma solo un po'. Le rivoluzioni iniziano tutte per lo stesso motivo. L'autodeterminazione dei popoli. Il libero mercato. L'utero in affitto. Insomma, la gente si mette a spaccare tutto perché vuole dei diritti e delle libertà. Quel giorno i coloni ribelli hanno mostrato il loro culetto repubblicano a Your Majesty indossando una maglietta con suo scritto Pensati Libera. Tipo Bart Simpson Ferragnez. E il Regno Unito? Ciucciami la dichiarazione di dipendenza. E il Regno Unito non l'ha prese proprio benissimo. Sti inglesi sono permallosi. È il karma, signora mia. Neanche il tempo di dichiarare l'indipendenza che gli statunitensi erano già in guerra con mamma Inghilterra che aveva tirato fuori la ciabatta, la flotta navale ed un sacco di soldati in uniforme rosso corrida. Dato che all'epoca le tutte mimetiche non le avevano ancora inventate. I soldati britannici vestiti da birilli cadevano sul campo di battaglia che era una meraviglia. Tutta testa sti inglesi. E patapim patapam e patapim patapam. Your Majesty si vede obbligata a rinunciare alle sue colonie del New England. E gli Stati Uniti, ancora composti da una decina di colonie, iniziano ad esportare la democrazia in Canada e poi in Messico e in tutta la galassia. Ed eccoci qua, cari paesi membri, a parlare di una pietra miliare delle democrazie occidentali. Perché gli americani hanno fatto anche cose buone. E quando c'era George Washington i treni a vapore arrivavano in orario. Avanti e veloce. Siamo in Francia. Un altro posto dove le rivoluzioni viralizzano peggio degli scherzi epici finiti male. Non così avanti però, ma perché c'ho le dita banana. Siamo intorno al 1800 e qualcosa giù di lì. Hanno appena costruito il canale di Suez. I francesi, così debotto senza senso, dato che l'Egitto era una colonia britannica, decidono di regalare a Your Majesty per l'inaugurazione del canale una bomboniera. Perché che fai? Vai a mani vuote? E non si fa. Però sono francesi. Quindi tirano su una statua di ventordici metri di rame su un piedistallo di pietra ed altre cose di design, come si direbbe adesso. Your Majesty, abituata ai diamanti grezzi dell'India, non sa che farsene d'esta specie di grondaia. Maria, chiudi la busta. I francesi, che già si erano tenuti la tour Eiffel, non sanno come smaltire la statua. Che carina, dai, la personificazione della libertà a livello ingegneristico è un prodigio della tecnica. E siamo europei, se non dai un tocco greco alle tue statue non sei nessuno. I francesi si guardano intorno. C'è un paese a cui piacciono le cose grosse. Che urla ai 420 che è the land of the freedom. Che fa moglie, rifiliamo agli americani? Gli americani sono felicissimi che finalmente una superpotenza europea come la France li abbia considerati. Si prendono l'oggetto di design e lo piazzano all'entrata di New York. Ma c'è scritto benvenuti alle porte dell'Asia. Eh, tanto gli immigrati non sanno mica leggere. Lo eleveranno a monumento nazionale, ma che dico diventerà il simbolo stesso della libertà. Per cui hanno lottato quando colpivano i soldati di sua maestà come se fossero al bowling. Di solito, quando recicli un regalo, non ti aspetti che diventi uno degli oggetti più importanti e famosi della storia dell'umanità. Manco fosse un bronzo di riace. Sti stranieri, signora mia, non sanno cosa sia l'arte. Ma vi siete mai chiesti perché i francesi avessero rappresentato la libertà in quel modo. La statua della libertà è la Marianne di Francia. E chi è sta Marianne? Una di quelle francesi che girano con due litri di profumo e parlano costare moche a misto di femme fatale o l'ifance sul viale del tramonto? La Marianne di Francia è il simbolo della rivoluzione francese, quindi il simbolo della libertà. Autobiaggi, fogli e libri di giornale. Un'immagine patriarcale che oggettifica la donna a puro oggetto cheshuale. Poiché la Marianne era questa pulzella immaginaria della mitologia d'Oltralpe che si scopriva un seno in segno di rimostranza. Questa ausanza di scoprirsi le poppe era un'abitudine dei galli, gli antenati dei francesi. Secondo Giulio Cesare, durante gli scontri i capi gallici mandavano le loro donne ad implorare una tregua, perché i romani erano mica russi, quelli menavano seri. Le donne del villaggio si stracciavano le vesti mostrando le zizze in segno di pietà, per mostrarsi più indifese di quanto già non fossero. Sappiamo che tale gesto disperato non aiutò molto i galli che furono asfaltati dalle legioni romane. Spiagge. Questo archetipo è sopravvissuto nella cultura contadina della Francia medievale. Di tanto in tanto, durante rivolte ed altri moti popolari, apparivano queste donne che si scoprivano i seni. Perché noi parliamo degli italiani, ma il seno nella cultura francese ha qualcosa di sacro. Durante l'illuminismo e la rivoluzione francese, questo simbolismo venne sofisticato e diventò poi l'allegoria che conosciamo tutti. Come si direbbe adesso fece lo rebranding della Marianne di Francia, per conquistare il nuovo mercato americano che si era appena aperto. Ma oggigiorno mi sembra come se la libertà si fosse impigrita, una libertà opulenta. Perché noi buddisti siamo persuasi che ogni cosa sia compenetrata dal suo opposto e che la verità stia nel giusto equilibrio eternamente precario fra le due metà dell'universo. Quindi anche la libertà di fatto è solo un altro aspetto della schiavitù. Una libertà superficiale. Perché non c'è cosa peggiore del vincerle le guerre. La vittoria è un regalo avvelenato. Una volta che hai sconfitto il nemico su cui hai costruito la tua ideologia che fai senza quella metà che ti ricorda quale sia lo scopo della lotta. E un attimo convincersi che il mare finisca all'orizzonte. Non sto difendendo la schiavitù. L'hanno difesa fin troppo. Una Marianne ingozzatasi talmente tanto di libertà a buon mercato che ormai atrofizzata non ha più la forza di lottare. E soprattutto di difendere coloro che una libertà non ce l'hanno. Che sono miliardi di persone. Ma poi chi è che si sente veramente libero? La minaccia più grande della libertà non è solo la schiavitù. Per quello basta una tenaglia via le catene e via il dolore. Il vero problema è la polarizzazione. Perché un mondo libero dove non si può più dire niente signora mia non è libero. Ormai se uno non la pensa come te no cazzo o prostacippa. Una volta almeno ti davano del comunista. I conflitti sociali non si risolvono con un bavaglio. Con l'umilazione, con l'isolamento. Si risolvono mettendoci tutti in discussione. E fornendo a queste persone gli strumenti intellettuali per giungere ad una conclusione. Non dico giusta ma coerente. Sempre se hanno torto. Non succede ma metti che succede che hanno ragione. Paura eh? Perché i boomer sono andati avanti anni dicendo che Twitter un giorno sarebbe stato a pagamento. Tutti gli altri metodi per me sono semplici e violazioni dei diritti umani. L'ho toccata pianissimo. Questa libertà obesa serva della propaganda non la sopporto più. Comincio a capire il Bhutan che se chiuso su se stesso non riconosce né Cina né Taiwan. E dà relazioni solo con l'India. Perché il Bhutan è sull'Himalaya. Se vivi sull'Himalaya con l'India deve averci a che fare. Ma mi dispiace vedere nascere nuove etichette ogni giorno. Perché so benissimo cosa vuol dire essere discriminato. Capita quando non sei Giorgia madre cristiana. Perché sta lobby gay da me non prende. No perché lo sciocche pare che i gay abbiano conquistato il globo terraqueo ma è solo propaganda appunto. Quella libertà piena di grassi sattoli che vi dicevo prima. Come le merendine del discount. che ti danno una botta di autostima e un attimo dopo sei già in calo democratico e cerchi altri mi piace. Questa libertà è una dipendenza e le dipendenze non vanno mai bene. E come ci insegna il dottor Nozaradan? O come diamine si dice? Pure questo ci poteva pensare che un giorno sarebbe diventato famoso eh. Ora che a tutti sono concessi 15 minuti di celebrità poteva scegliersi un cognome più pronunciabile. E a forza di ingrassare sta libertà rischia l'infarto sociale. No davvero mi spiace che molti di voi ci soffrino e si frustrino. Perché qua ormai la libertà di parola deve seguire i trend se no eh signora mia sono indignato. Guarda qualcuno ha commentato qualcosa che non condivido. Bruciamogli la casa. E ricordatevi che se gli illuministi francesi avessero seguito le linee guida di Facebook noi staremmo ancora a svuotare il pittale del re sole. Che a Boston non è che si sono preoccupati di cosa pensasse uno sconosciuto di Liverpool prima di gettare tutto quel tè nell'oceano creando un danno ambientale di cui nessuno parla. Tutta quella teina. Poveri pesci. La scienza sbaglia. Dio sbaglia. Figurati noi mortali che d'inverno tremiamo ed estate sudiamo. Il filosofo dice sì saggio ma non andare in giro a dirlo. Secondo me non bisognerebbe dividere il mondo in buoni o cattivi. Certo anch'io certe teorie le trovo stupide e ridicole. Deliranti. Ma io non sono nessuno. Ho conosciuto gente che crede in qualsiasi cose non l'ho mai vista come una minaccia alla democrazia. È da me che volete io sono mica la vostra prof. Che vi devo dire? Eh no non puoi credere in questo perché se apri la bibbia leggi questo paper e ripassate i congiuntivi non ce l'ho le verifiche. Facendo satira mi rendo veramente conto di quanta gente pensi sempre di più per sentito dire. Leggo commenti tutti uguali che a confronto chat GPT c'è una personalità più sfaccettata. Quindi cari follower voi continuate a lottare e diffondere le vostre idee. Pure se sono delle idee di merda. Perché io sono con voi. Il podcast finisce qui. Nel caso non mi conosciate non vi state perdendo nulla. Ho volutamente usato un linguaggio ironico e politicamente scorretto quindi dilla la mamma, dilla l'avvocato. Potete iscrivervi, farvi un giro sul mio canale, andare a bruciare cose in nome della libertà. Fate un po' quello che vi pare che io c'ho caldo. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento.